alfa giulietta quadrifoglio ovviamente non poteva mancare anche questa da scara perché adesso ve lo vado a spiegare dovete sapere che questo ragazzo di milano aveva la frizione che slittava mi è venuto a trovare dicendomi guarda a me la frizione slitta dobbiamo fare qualcosa e soprattutto vorrei che vada anche più forte guarda che se già la frizione slitta e hai la macchina poco preparata poi slitterà ancora di più quindi a questo punto ci conviene fare la nostra frizione rinforzata e poi vediamo di andare a prepararla perché prima dobbiamo ripristinare il funzionamento dell'auto poi andiamo a prepararla e allora così abbiamo fatto dopo due mesi mi ha portato la macchina e subito abbiamo sostituito la frizione con la nostra con i dischi in carbon kevlar e poi abbiamo cominciato a prepararla cosa gli abbiamo fatto adesso ve lo vado a raccontare allora su questa non abbiamo fatto i freni ma qualche giorno fa è venuta un'altra giulietta tra l'altro in un colore molto molto bello un grigio opaco sulla quale avevamo fatto la stessa identica preparazione ed è venuta perché gli abbiamo fatto sempre la mappatura motore la mappatura cambio e su questa avevamo montato i nostri dischi dei freni con la campagna in ergal in aggiunta alla preparazione che è stata fatta anche a questa macchina allora prima di tutto dovevamo farla scaricare a dovere cioè abbiamo montato il nostro downpipe 200 celle mi chiederete perché non è fatto lo scatto perché il motore 1750 senza catalizzatore funziona meno bene che con il catalizzatore 200 celle non ve lo so esattamente spiegare il motivo sinceramente perché tutti i test che abbiamo fatto abbiamo visto che col 200 celle la macchina va meglio ma non solo ai bassi ma anche nel lungo quindi 200 celle per forza intercooler con la nostra massa radiante motorsport aspirazione con il bicono frontale e poi mappa motore mappa cambio che è diversa o comunque simile ma non uguale a quella della 4c e adesso vi vado a raccontare intanto che sarò alla guida cosa gli abbiamo fatto alla mappa motore la mappa cambio ed eccoci qua alla guida di questa giulietta cambio tct quindi cambio doppia frizione come vi ho detto abbiamo sostituito la frizione originale in luogo della nostra con i due dischi in carbon kevlar è un po più scorbutica ma la coppia la tiene senza problemi infatti questo ci ha permesso di spingere la mappa motore mappa motore che abbiamo davvero portato a livelli molto molto alti perché siamo a un bare 8 di picco con un bare 7 stabile quindi la macchina fa davvero forte ovviamente mappa 108 anni così riusciamo a dargli l'anticipo che desideriamo e devo dire che spinge davvero forte ma a me piace davvero un sacco mappa cambio che in questa auto l'abbiamo fatta dedicata alla giulietta è diversa rispetto a quella della 4c perché la 4c ha una gestione elettronica della mappatura cambio diversa rispetto a quella della giulietta sulla giulietta non possiamo spingere le cambiate così rapide come facciamo nella 4c perché la 4c pesa 300 kg di meno e quindi possiamo spingerci anche a delle velocità di cambiata più alte ma le accortezze sull'attuatore del cambio per evitare che vada in recovery piuttosto che la velocità di cambiata che comunque l'abbiamo migliorata rispetto alla soluzione originale e tante altre accortezze sui limitatori che ci sono all'interno della mappatura le abbiamo sistemate per poter far funzionare l'auto alla perfezione e adesso ve la faccio sentire ah ovviamente un'altra cosa che non vi ho detto è che abbiamo alzato il limitatore di giri perché chiaramente spingendo la mappa così tanto e lavorando anche sugli alberi a cam per farla allungare molto di più agli alti giri cosa che ovviamente questo motore non riesce di serie perché se ci avete badato 6.000 giri dovete già cambiare marcia in questa come anche nelle 4c riusciamo a far spingere il motore fino a 7.000 giri anche 7.200 e questo appunto abbiamo dovuto lavorare sia sulla mappa motore che sulla mappa cambio per spostare il limitatore da 6.800 giri a 7.200 giri 3 2 1 via mamma mia se è patina cambiata rapidissima veramente fantastica non so se siete riusciti ad avvertire quanto allunga questa macchina in alto ma è davvero davvero notevole cambiata e secca sentite istantanea vi chiederete quanti cavalli abbiamo raggiunto bene non l'abbiamo portato sul banco però dai test che ho sui tempi e sulle comparazioni su auto che abbiamo già mappato su questa macchina siamo tra i 310 315 cavalli con 460 70 newton metri di coppia davvero un risultato di tutto rispetto considerando che la macchina da 1350 kg che ovviamente non possiamo neanche spingere molto rispetto di più visto che comunque le frizioni è vero che sono rinforzate però non è che possiamo giocarcele in 10 mila chilometri vi ho voluto portare la giulietta perché è vero che ne abbiamo sempre fatte tante però non ne avevo mai portate sul canale e così almeno potete vedere anche come si comporta una giulietta e non solo le 4 c come ho sempre fatto per cui dai ragazzi vi saluto e alla prossima